Ancora pochi giorni di tempo per partecipare a Cara Bassano ti scrivo, progetto socio-culturale dell'amministrazione comunale che invita i giovani tra i 15 e 35 anni a scrivere una lettera dedicata alla città di Bassano. Nata da un'idea di Francesca Tellattin, giovane copywriter bassanese, l'iniziativa ha riscosso l'interesse dei giovani del territorio che avranno tempo fino al 29 aprile per l'invio dei loro pensieri e riflessioni. I testi ritenuti migliori saranno stampati e affissi negli spazi pubblici cittadini per essere letti e condivisi da chiunque passi in centro storico. Il primo testo ad essere affisso o fuori concorso i primi giorni di maggio sarà il post pubblicato da Francesca Tellattin su un profilo Instagram personale, una lettera spontanea che ha fatto nascere l'idea della condivisione e apertura ad altri giovani per manifestare le proprie emozioni nei confronti della nostra città. Da post su Instagram ad affissione cartacea sui muri della città un messaggio positivo per il passante lettore e uno strumento estetico di decoro urbano. Per partecipare al progetto i giovani tra i 15 e i 35 anni potranno scrivere e inviare le proprie dediche d'amore alla città raccontando cos'è per loro, cosa rappresenta, cosa li emoziona, cosa evoca loro, cosa pensano mentre camminano tra le sue vie. I testi selezionati verranno impaginati seguendo la specifica grafica creata per il progetto, stampati e affissi in spazi pubblici della zona centrale della città per un totale di 30 giorni. I poster urbani saranno attivi a rotazione